La seconda parte della mattinata è dedicata alla conferenza del professor Silvio Garatini che è il direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri. Non mi dilungo nella presentazione perché immagino che tutti voi lo conosciate. Rivadisco il concetto del perché per noi è un faro. Lo è perché è competente, ha svolto studi importantissimi nella sua carriera ma ha anche tenuto la barra dritta sulla sua personale situazione etica e morale perché noi quando guardiamo a lui come esempio, lo guardiamo come esempio sia per la competenza sia per l'autorevolezza che deriva dall'assenza di conflitti di interesse e dalla credibilità che ha maturato nel tempo. Con enorme piacere vi invito a venire a me a applaudire Silvio Garatini. Buongiorno a tutti, grazie Sergio per la presentazione. Sono molto felice di essere con voi ancora una volta e di parlare un po' degli argomenti che ci interessano direttamente. Qualche settimana fa sono stato, avevo un po' di tempo, ero a Roma, e sono andato in una libreria, la libreria Feltrinelli, e sono andato a cercare sotto la voce scienze e ho trovato queste cose. Ho trovato il miracolo del pH alcalino, ho trovato che da parte di illustri autori rimedi naturali per combattere le allergie, ho trovato vedere bene senza occhiali, sapete che hanno sviluppato attualmente anche gli occhiali omeopatici, sono senza lenti. Quindi, come curarsi con il limone, poi sfogliando un po' di riviste, ho trovato tante altre cose. Ho trovato che per la menopausa questo prodotto è straordinario, risolve tutto. La nausea dell'emicrania si può combattere anche senza farmaci, non si sa come, ma comunque si può combattere. Poi addirittura il genoma serve per fare delle pomate per diventare più belle. E anche se hai la mancanza di memoria, non sai più dove trovi le forbici, c'è una risposta, c'è qualcosa che si può prendere per fare questo. E fra l'altro c'è anche un concentrato di antiossidanti che è in grado di contrastare oltre 300 disturbi, quindi è una specie di magia. E non so poi se è vero, ma insomma questo dottor Roberto Volpe lo conferma, dice che nel mare degli integratori questo è straordinario, e sarebbe questa moringa, le foglie di moringa olifera, che hanno questa capacità di agire su addirittura 300. Poi guardo un po' una rivista autorevole, perché il Corriere della Sera è una rivista autorevole, questo è un inserto, e trovo che hanno sviluppato anche nuove conoscenze sulle malattie, perché il torcicollo, vedete, colpisce chi giudica il mondo in termini di giusto o sbagliato, provvamente da famiglie, con modelli educativi molto rigidi, vive sulla difensiva, dividendo l'umanità in buoni e cattivi, quindi se dividete l'umanità state attenti, perché vi viene il torcicollo. Poi potete vedere che l'emicrania è concentrato, ce l'ha chi è richiesto troppo di fare troppe cose e non ce la fa. La gastrite è la fame emotiva, che non bisogna mostrare agli altri, come pure... Tutto questo, insomma, è un mare di cose che ci innondano, ci innondano quotidianamente, e quindi, per non parlare delle cose che... Ho fatto vedere cose molto minori, per non parlare delle cose invece molto più importanti, che hanno diviso la nostra società, che hanno creato discussioni politiche, come Metodo di Bella, come Stamina, a cui è già stato accennato. Allora è anche importante chiederci che cosa c'è di comune a tutte queste cose, questi che propagandano prodotti che non hanno un grande significato, che cosa, diciamo, su cosa si fondano. Io ho trovato che ci sono un po' di cose che sono comune a tutti. Sono interventi attivi su tutte le malattie, e in ogni caso sui tumori, cioè se qualcosa viene proposto per malattie, i tumori ci sono sempre. non hanno ipotesi plausibili sul meccanismo d'azione, vengono citati solo aneddoti. Ha fatto bene a me, ha fatto bene al mio amico. Due o tre persone sono guarite perché hanno preso questo tipo di cose. Sono tutti degli interventi senza effetti tossici, naturalmente. hanno spesso origine da paesi lontani. L'estratto di scorpione azzurro del Brasile che serve per curare i tumori. Trentamila italiani sono andati in Brasile a comprare questo prodotto. Quindi se è lontano è molto più stuzzicante. Sono disponibili da molto tempo, quindi se ci sono da 200 anni, per forza devono essere attivi. Sono utilizzati da milioni di persone e naturalmente sono ostacolati dalla Big Pharma perché l'industria farmaceutica non vuole, dimenticando che se volesse qualcosa lo compra immediatamente. Non c'è bisogno che lo combatta, lo compra, lo assorbe immediatamente. E così possiamo fare anche un identikit delle persone che sono, diciamo, prone a accettare questo tipo di cose. Sono delle persone per cui abbiamo, se incontrate persone che hanno due o tre di queste caratteristiche, potete essere sicuri che fanno parte di quelli che credono nella medicina che chiamiamo di tipo alternativa. In generale sono vegetariani o vegani, combattono gli OGM, naturalmente, hanno sostenuto la terapia di Bella, erano favorevoli a stamina, sono contrari alla sperimentazione animale, preferiscono il cibo bio, un altro grande imbroglio del nostro tempo, utilizzano prodotti omeopatici e erboristici, sono anti-vax, credono negli oroscopi e amano il naturale. Questa è un'altra cosa molto interessante, il naturale è diventato sinonimo di buono. Lo vedete anche nella pubblicità, se uno può inserire la parola naturale o naturistico o qualcosa del genere, subito è buono, perché il naturale è considerato buono. naturalmente ci si dimentica che i peggiori veleni sono in natura e che batteri e virus sono assolutamente naturali, ma il naturale è buono. Questo è un po' il quadro con cui abbiamo a che fare. Sono tutte queste delle affermazioni, sono della propaganda, che sono basate su delle certezze. La scienza invece si occupa dell'incertezza. Siamo di fronte a incertezze e la scienza cosa cerca di fare? Cerca di essere meno incerta, cioè di accumulare informazioni basate sugli esperimenti, basate sulle osservazioni, descrivendo, come diceva bene Sergio, quello che succede, perché con questo si cerca di diminuire un po' la incertezza. È quello che vogliamo fare. Perché dobbiamo risolvere la incertezza? Perché se noi accettiamo la incertezza come modo per procedere, ci troviamo di fronte a problemi. Difatti, quando c'è incertezza, se facciamo qualcosa, uno decide, beh, c'è incertezza, ma io voglio provare in ogni caso nell'interesse del paziente. Beh, lo possiamo esporre a dei rischi. Ma anche se scegliamo la situazione opposta, cioè non voglio trattare, beh, gli potremmo negare invece dei possibili benefici. La scienza ha sviluppato e invece con il tempo, ci è voluto moltissimo tempo, dei secoli per sviluppare metodologie e oggi noi riteniamo che lo standard, diciamo, che dovremmo cercare di utilizzare sempre, magari non soltanto per i problemi scientifici, ma anche per tanti altri problemi, è quello di testare le cose attraverso una randomizzazione, perché questa è la sola via attraverso cui possiamo avere una certezza, una minore incertezza dal punto di vista scientifico, ma al tempo stesso rispettiamo anche l'etica che ci dice che non possiamo sottoporre persone a rischi se non abbiamo forti probabilità che questi rischi siano minori dei benefici che si possono ottenere. Però non è che possiamo qualsiasi cosa dire abbiamo un'idea, diciamo, beh, proviamola nell'uomo. Questo non può succedere in questo modo. Bisogna sempre avere una ragione, cioè un prodotto può essere sottoposto a un test, quindi per cercare di risolvere l'incertezza, ma l'incertezza deve essere corroborata da informazioni che ci consentono una certa attendibilità, cioè bisogna che abbiamo delle ipotesi che si basano su dei fatti, su delle conoscenze, il che non è sempre così, perché se prendiamo una delle cose che ci stanno più a cuore in certo modo, perché è uno degli esempi massimi di una medicina che vuole essere scientifica, ma non lo è, se noi abbiamo una ragione per andare a fare uno studio basandoci su il simile cura il simile, che è la base scritta da Hainanon alla fine del 1700 per l'omeopatia, questo non ha nessun significato, non c'è nessuna base scientifica, come pure se parliamo di acupuntura e andiamo a vedere quali sono i punti su cui si agisce, non hanno nessuna relazione con quello che oggi sappiamo dal punto di vista scientifico, tanto più poi che il simile cura il simile attraverso la diluizione e la succussione, che vuol dire l'agitazione, perché questo indurrebbe poi una memoria dell'acqua che permette di esercitare l'attività. e purtroppo quelli che sostengono questo hanno un dato che addirittura è stato pubblicato su Nature nel 1988, è lo studio che Davin era il primo autore, ma benvenista, è quello che era, diciamo, una persona nota, la cosa ha fatto molto scalpore. Però la gente si è dimenticata che dopo di quello ci sono stati tanti altri lavori che invece sono stati completamente negativi, non hanno potuto riprodurre i dati. Tant'è vero che dopo cinque anni Nature è stata obbligata a pubblicare questo lavoro che dice, rispetto al lavoro originale, dice, is not triggered, cioè non è dovuto a questo, non è vero quello che era stato affermato. Però questo passa come passano tante altre cose, come ci spiegava molto bene questa mattina Sergio, la prima idea è quella che rimane in ogni caso. Poi ce ne possono essere tante che il vaccino sia legato all'autismo, era una prima idea che è rimasta. Poi è stata ritrattata, hanno dovuto ritirare i lavori, è stato condannato l'autore, l'hanno buttato fuori dalle ordini dei medici, ma tutti continuano ancora a citare che la vaccinazione aumenta l'autismo. Ma ritornando al problema che ci interessa, le cose sono evolute e le diluizioni, che prima potevano essere accettabili, perché nessuno sapeva che cosa succedeva diluendo del prodotto iniziale, poi è venuto Avogadro con il suo numero di Avogadro e quindi sappiamo quante molecole ci sono e sappiamo che quando la diluizione è di 24 volte decimale o di 12 volte centesimale, non c'è più neanche una molecola, ce n'è 0,6, quindi non ci può essere più neanche una molecola all'interno. Tant'è vero che poi se vogliamo dare un'immagine a cosa vuol dire 12 decimali, 12 diluizioni decimali che sono la metà di quelli che comportano la non presenza di una molecola, però vuol dire come prendere un millimetro cubico di un preparato e buttarlo in mille metri cubi di acqua. È come se noi buttassimo un centimetro cubico del nostro prodotto in una piscina che è di 10% per un metro di altezza. Quello che ci rimane è facile immaginare a parte di tutti, però questa idea è un'idea che in qualche modo affascina, perché quando si parla di farmaci c'è sempre qualcosa di misterioso che non sappiamo che in ogni caso ma forse potrebbe fare, che non vale per tutte le altre cose, perché se voi prendete un altro esempio, che è un esempio che faccio frequentemente, prendete del buon vino, buon amarone e fate la stessa cosa che fa l'omeopatia. Prendete un centimetro cubico, 10 o 100 centimetri cubici di acqua, agitate, poi da lì ne prendete un altro, agitate, andate avanti per 10-12 volte, poi lo imbottigliate, ci scrivete amarone omeopatico, lo portate al supermercato, pensate che c'è qualcuno che lo compri? Io penso di no, perché la gente ha una chiara idea delle differenze fra il vino e l'acqua, mentre invece, ripeto, quando si tratta di farmaci non ha assolutamente l'idea, certamente non ha l'idea di quanti zeri ci siano facendo le diluizioni, che vi dicono che non ci può essere niente che è così attivo, non conosciamo niente che sia così attivo che abbia, vedete, ci sono anche i riferimenti dei nomi e dei simboli, che ci siano 12 zeri davanti all'uno dopo la virgola, la gente normalmente non ha questo tipo di idea, perché non ha un minimo di mentalità quantitativa molto spesso. Bene, quindi ci vuole attentibilità, ma poi bisogna fare tutta una serie di altre cose per, prima di andare a fare qualcosa nell'uomo, bisogna fare degli studi in vitro, bisogna fare gli studi in vivo, tutta la parte preclinica, poi studi preliminari negli animali, sapere se il farmaco prodotto viene assorbito, se è tossico, che è quello che chiamiamo fase 1, stabilire se c'è un'efficacia preliminare nella fase 2 e poi arrivare finalmente a quello che abbiamo fatto vedere prima, cioè questo studio clinico controllato o randomizzato, che è l'efficacia comparativa. A proposito di cosa sia un studio clinico, vi faccio vedere questo breve video. 1747 su una nave della corona britannica. Il medico di bordo per scoprire la migliore terapia contro lo scorbuto distribuì vari preparati, secondo le conoscenze dell'epoca, ai marinai divisi a due a due. Uno di questi preparati era composto di arance e di limoni. Solo i due marinai che lo presero guarirono. Questo test risolse l'incertezza e rivelò la cura più efficace. Le cose sono ovviamente molto cambiate dal 1747 ma ora come allora l'unico modo per rispondere alle incertezze sui vantaggi e gli svantaggi dei trattamenti è fare studi clinici. Studio clinico Primo punto Il progetto dello studio clinico deve essere approvato non dagli stessi sperimentatori che ovviamente potrebbero avere qualche interesse ad un buon risultato ma da un comitato etico composto da esperti indipendenti e anche da comuni cittadini Secondo punto Bisogna dividere i pazienti prescelti in due gruppi quello cui verrà somministrato il nuovo farmaco e un secondo gruppo che funzionerà da controllo Al gruppo di controllo verrà dato un placebo cioè un preparato inerte ma dall'apparenza in tutto e per tutto simile al farmaco da mettere alla prova Nei casi in cui per quella malattia esista già un farmaco efficace invece del placebo al gruppo di controllo verrà dato per motivi etici il farmaco già disponibile Questa distribuzione dei pazienti nei due gruppi dovrà essere assolutamente casuale un po' come estrarre i numeri di una tombola quello che tecnicamente si chiama randomizzazione e permette di ottenere gruppi omogenei da confrontare Terzo punto nel test i pazienti non devono sapere se stanno ricevendo il farmaco o il placebo ma nemmeno i medici devono sapere cosa stanno somministrando il test deve essere organizzato in modo che tutti siano all'oscuro in questo modo si eviteranno suggestioni o pressioni anche involontarie il doppio cieco appunto Quarto punto alla fine dello studio clinico le cartelle cliniche dei pazienti dei due gruppi devono essere analizzate da una terza equipa medica che non ha partecipato al doppio cieco anzi ne è totalmente estranea Quinto punto lo studio clinico con il doppio cieco deve essere ripetuto in altri centri indipendenti Sesto punto non basta che il nuovo farmaco si riveli efficace statisticamente nei confronti del controllo il farmaco deve migliorare realmente le condizioni dei pazienti quindi bisogna valutare sia i benefici che gli effetti collaterali cioè dannosi un'attenta misura dei benefici e dei danni Ecco questo vi dà un'idea fra l'altro voglio dire che questo video c'è anche una parte ulteriore è disponibile per tutti quelli che lo vogliono avere basta che mi mandino una mail questo è disponibile perché è stato realizzato attraverso un grant dell'Unione Europea bene dicevo che questo che è lo studio clinico controllato avete un'idea più precisa di cosa voglia dire però è sottoposto anche lui a bias cioè non basta che ci sia uno studio clinico controllato bisogna anche verificare che siano state osservate tutte le caratteristiche che deve avere uno studio clinico e qui faccio vedere alcune delle cose l'utilizzo inappropriato del placebo l'impiego di un trattamento non ottimale per il gruppo di controllo il disegno di non inferiorità di solito i farmaci si devono studiare perché sono meglio di quelli che già esistono ma si è inventato un modo per dire ma in fondo anche se fa un po' di meno va abbastanza bene lo stesso l'impiego di parametri surrogati cioè non ci interessa che diminuisca la pressione che diminuisca il colesterolo o che diminuisca la glicemia quello che ci interessa è che il paziente abbia un beneficio clinico quella è la cosa che è importante spesso gli studi escludono le popolazioni fragili cioè quelli che poi devono ricevere il farmaco negli studi spesso si tolgono gli anziani ma poi sono farmaci che vengono impiegati negli anziani e poi non bisogna saper distinguere la significatività statistica dalla significatività clinica non basta che sia statisticamente significativo bisogna che sia clinicamente significativo se un farmaco antitumorale aumenta la sopravvivenza di 5 giorni beh non credo che sia clinicamente significativo anche se lo è statisticamente faccio vedere questo perché come vedremo mentre questo diciamo è un modo per selezionare le cose che funzionano da quelle che non funzionano dobbiamo avere però anche il coraggio di dire che non tutto quello che diciamo nella medicina ufficiale è vera cioè sulla base di questi dati credo che potremmo togliere tranquillamente il 50% dei farmaci che sono sul mercato senza che nessuno se ne accorga cioè senza che il paziente abbia un danno perché purtroppo il mercato della medicina oggi è molto potente e quindi dobbiamo stare attenti anche a non difendere questo mercato ma come siamo pronti ad accusare le cose che non funzionano nella medicina cosiddetta alternativa dobbiamo essere dobbiamo esserlo altrettanto per tutto quello che non funziona nella medicina cosiddetta ufficiale molto rapidamente possiamo vedere quali sono le informazioni che abbiamo abbiamo parlato di omeopatia quindi continuiamo su questo tema la Cochrane Collaboration è un'organizzazione di ricercatori i quali come mestiere vanno a guardare tutto quello che è stato scritto su un determinato argomento e poi fanno una sintesi e una valutazione l'ha fatto per questo oscillo coccinum che è uno dei diciamo dei prodotti più venduti della medicina diciamo dei trattamenti omeopatici e ha concluso che non c'è nessuna prova di efficacia per le cose per cui è stato studiato per l'asma l'ostertrite la la sindrome di la deficienza di attenzione l'induzione del parto gli effetti avversi della chemioterapia e l'influenza questi sono prodotti questo prodotto viene ampiamente utilizzato per questi aspetti poi nel 2005 il Lancet ha fatto una commissione ha fatto un esame di tutta la letteratura che era disponibile e ha concluso c'era anche in copertina con la fine dell'omeopatia cioè non c'è nessuna base per poterla sostenere i medici inglesi hanno chiesto di bandire l'omeopatia dal servizio sanitario nazionale che allora lo consentiva oggi è già molto più difficile nel 2015 l'Australia il Medical Research Council ha stabilito che non c'è nessuna efficacia oltre l'effetto placebo qualcuno può dire vabbè ma perché in fondo non lasciamo che ci sia questo effetto placebo che serve beh la risposta è che non è soltanto il prodotto che dà l'effetto placebo non c'è migliore effetto placebo del medico che parli con il suo paziente e quindi se il medico è capace di parlare con il suo paziente non ha certamente bisogno di dare nessun prodotto a meno che non siano prodotti che sono veramente efficaci nel 2017 l'organizzazione mondiale ha fatto questa importante diciamo una ripetitiva in qualche modo perché qual è il danno maggiore che si fa attraverso la medicina alternativa quella che oggi per ringraziarsi si chiama di più medicina complementare o medicina integrativa perché sono i problemi delle omissioni se usiamo qualcosa di inefficace per una malattia che si potrebbe curare rischiamo poi di dover intervenire quando ormai la malattia è diventata grave questa è la maggior ragione per cui stiamo molto attenti a quello che facciamo e poi quest'anno anche la Federal Trade Commission negli Stati Uniti ha imposto che sui prodotti omeopatici sia scritto totale mancanza di efficacia questo scritto sull'etichetta ha chiesto che sia fatto questo e anche il Comitato Nazionale di Bioetica in Italia ha mandato un forte messaggio al Ministero della Salute dicendo che bisogna scrivere in lettere molto chiare questo prodotto è inefficace ma d'altra parte questo c'è già cioè se andate a vedere il decreto legislativo del 2006 eccetera eccetera impone la dicitura medicinale omeopatico medicinale un po' troppo dovrebbe essere prodotto omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate se non ci sono indicazioni terapeutiche qualcuno mi deve spiegare per cosa lo devo usare se non ci sono indicazioni c'è una specie di irrazionalità nel modo con cui è scritta la legge ne vedremo degli altri la direttiva europea chiede la data di scadenza dei prodotti ma se non contengono nulla che cosa deve scadere i prodotti non possono avere una precisa indicazione terapeutica e allora per cosa si mettono in commercio i dossier per la notifica non deve contenere studi di efficacia cioè non è richiesto che ci siano studi di efficacia ma la farmacovigilanza deve essere fatta per vedere effetti avversi allora uno si chiede ma è possibile che una direttiva europea sia fatta di gente così stupida che mette insieme queste cose così contraddittorie è veramente un problema la risposta è molto semplice ci sono forti interessi economici i prodotti omeopatici vendono parecchi miliardi di euro all'anno se consideriamo la situazione europea e questo è certamente quello che giustifica è il potere del mercato della medicina di questo tipo di medicina ma anche di altri tipi di medicina che governa poi anche le leggi le leggi si fanno sulla base degli interessi uno si chiede anche se si può vendere qualcosa che non contiene nulla con un'etichetta che indica invece la presenza di principi attivi lo sapete c'è stato anche un concorso una sfida da questo punto di vista si davano 100 milioni di lire un po' di tempo fa a chi era in grado di riconoscere come erano state cambiate le etichette perché voi potete prendere molti di quei bei prodotti che ci sono in tutte le farmacie scambiare le etichette e nessuno se ne può accorgere perché siccome non contengono nulla o comunque non contengono niente di misurabile le potete mettere come volete difatti nessuno ha vinto il premio di 100 milioni non l'avrebbe vinto neanche se fosse stato di un miliardo perché è impossibile farlo però purtroppo è già stato citato anche prima sia da Luca Vago sia da Sergio nel 2002 a Terni la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici ha riconosciuto la qualifica di atto medico all'esercizio di e altre pratiche non convenzionali insomma è come se si dicesse che siccome lo fa il medico qualcosa che non serve a niente serve è una è molto difficile mettere insieme queste cose dal punto di vista razionale insomma è come se si dicesse che siccome se lo mettiamo in mano all'astronomo l'oroscopo diventa veritiero insomma non non eh infatti poi a questo ci sono le conseguenze cioè nel 2012 gli assessori regionali alla salute hanno proposto una specializzazione post laurea in tre anni con 400 ore teoriche e 100 ore di pratica sì forse per contare tutti quegli zeri che ci sono nelle diluizioni non ha non si capisce per che cosa cioè c'è una serie di cose che qualunque persona di buon senso non dico insomma non deve aver fatto non deve avere una laurea non deve avere non riesce veramente a capire se non appunto sulla base di interessi economici di interessi elettorali perché certo i deputati che facessero una legge che abolisce l'impiego dell'omeopatia o anche solo che abolisce che l'omeopatia venga pagata dal servizio sanitario nazionale come purtroppo succede a Lucca ci sono due splendidi ambulatori di omeopatia ginecologica e di omeopatia oncologica con cinque medici che noi paghiamo regolarmente con il servizio sanitario nazionale allora se qualche deputato facesse questo probabilmente perderebbe un po' di voti quindi queste sono le ragioni per cui poi alla fine non si fa e poi diciamo molte università includono i loro corsi master in omeopatia ce n'è uno molto interessante il farmacista esperto in omeopatia un nuovo approccio nelle relazioni con i clienti vendere l'acqua fresca è un ottimo approccio secondo questo corso per avere dei clienti vabbè l'unica cosa che si può dire è che il principio attivo che è presente sono i granuli di zucchero che chi li compra li paga molto cari perché il costo dello zucchero in queste preparazioni è di circa 2000 euro al chilogrammo calcoli che si possono fare molto rapidamente pesando quanto zucchero c'è presente nei preparati omeopatici questo diciamo è molto vicino mi domando come mai ci può essere questo se fosse fatto in qualsiasi altro campo probabilmente i giudici entrerebbero in azione allora c'è anche un altro decreto che è successivo a quello che abbiamo visto che dice che si preoccupa del fatto che si diluiscano dei farmaci della medicina chiamiamo allopatica della medicina ufficiale allora dice che se la sostanza madre contiene un farmaco allopatico un farmaco B ufficiale diciamo la diluizione deve essere almeno di 1 a 100 che cosa vuol dire deve voler dire una delle due cose o noi utilizziamo i farmaci a una dose che è 100 volte superiore a quella che dovremmo utilizzare oppure vuol dire che si vuole fare in modo che il farmaco non sia attivo nel prodotto omeopatico fra l'altro anche secondo il decreto legislativo del 2006 l'etichetta deve riportare senza indicazioni terapeutiche approvate consultare il medico se i sintomi persistono non è a carico del servizio sanitario nazionale però vi ho fatto vedere vi ho già detto ed è diciamo facilmente riscontrabile l'esistenza di questi ambulatori ancora la direttiva europea questo l'abbiamo già visto questa non è una propaganda ma è soltanto per dire che chi vuole leggere e saperne un po' di più c'è una documentazione che si può termino con una osservazione che penso dobbiamo tenere presente e che è un modo un po' secondo me per non ignorare quali sono le origini dei problemi con cui abbiamo a che fare viviamo in un paese in cui la scienza non è considerata e gli scienziati godono di scarsa credibilità questo diciamo è dato da molti dati ma vi posso far vedere questo che è stato fatto quest'anno nel 2017 in cui si vede che la scienza è sempre in grado di riconoscere e correggere i propri errori il 50% dice di no i risultati ottenuti dalla scienza sono a disposizione di tutti circa il 50% è negativo la scienza serve a soddisfare solo la curiosità di pochi qui siamo un pochino meglio perché siamo intorno al 30% ma vedete che non c'è quella massiva fiducia che ci dovrebbe essere di fronte a chi si occupa dei fatti e cerca di proporre dei fatti e questo è proprio perché la comunità italiana non accetta la scienza come parte della conoscenza cioè della scienza ama molto i benefici prima non c'era il telefonino adesso c'è prima non si potevano fare certe cose oggi si possono fare prima non c'erano farmaci efficaci adesso in qualche campo ci sono però si apprezza il risultato ma non si apprezza la conoscenza perché la cultura è ancora di tipo letterario filosofico giuridico manca l'insegnamento dei principi della scienza chi a scuola ha veramente imparato quanto è difficile stabilire il rapporto di causa ed effetto la gente è sempre convinta che sia molto facile vedo una cosa succede un'altra è chiaro quella è stata la causa di quello che è successo ma non è vero cioè se voi avete una sciatica prendete dei farmaci poi finalmente dopo un mese dopo aver preso per molto tempo farmaci che fanno relativamente poco dopo un mese la sciatica passa potete essere sicuri che il 90% della gente dirà che l'ultimo farmaco che ha preso dovevo prenderlo prima perché questo vi è stato veramente efficace non prende in considerazione il fatto che dopo un mese la sciatica di solito passa per suo conto non si prende in considerazione che forse la sciatica sarebbe passata prima se non avesse preso il farmaco stabilire quello di che di queste tre cose è vero è difficile non è semplice bisogna a scuola bisogna che i ragazzi abbiano questo tipo di informazioni ma che derivano anche dalla filosofia dalla letteratura che derivano da tutte le vie che possiamo utilizzare oltre che la scienza perché se capiscono questo poi non accettano tante altre cose e così via voglio finire questa chiacchierata ma secondo me è molto importante che ci sia questo insegnamento dei principi della scienza tanto più che i nostri figli in nostro caso i nostri nipoti vivono e vivranno in una società che è sempre più tecnologizzata e è impossibile fare scelte di quello che si deve fare senza un'adeguata cultura scientifica se fare una vaccinazione non lo può dire la letteratura non lo può dire la filosofia non lo può dire neanche la giurisprudenza lo dice soltanto lo si può desumere solo dalle conoscenze scientifiche non si può fare in altra maniera credo che abbiamo un compito molto grande tutti tutti noi siamo qui tutti per lo stesso fine siamo tutti qui per cercare di migliorare la situazione per aumentare la cultura scientifica ma soprattutto in vista del fatto di fare in modo che cresca la salute nella nostra società è un compito molto ingrato lo diceva prima anche Luca Vago cioè abbiamo di fronte a noi qualcosa di colossale la sfida che abbiamo è una sfida asimmetrica completamente asimmetrica grandi forze grandi capacità molti soldi disponibili da una parte e buona volontà tutto sommato dall'altra parte però dobbiamo insistere e sono sicuro che se tutti ci proviamo alla fine ci riusciremo grazie grazie a tutti